Al Gelredom di Arnhem sta per iniziare l'andata degli ottavi di finale di Conference League, sta per iniziare Vitesse-Roma. A sinistra Vitek sovrappone da quella parte Don Gioni il cross, dentro però penda il tiro e il miracolo di Rui. Attenzione d'Asa da destra, lato corto dell'area di Rui, il cross basso in mezzo, Don Gioni è solo Rui. Attenzione, la transizione loro, palla in avanti, però penda che mista scivola, attenzione Bagnez, penda il tiro fuori. Bagnez e quindi Rui Patrici, oh che sbaglia, attenzione Gebic, in area di rigore per upenda, alto, alto. Abramo che la tiene sempre in area, c'è anche Oliveira, Abramo ancora il tiro di Temmi fuori. Ecco il cross di Voreto in mezzo, palla rinviata, Corcevigna pensa al tiro, lo fa un assist per Zagnolo, che si gira, Oliveira! Oliveira! Il gol della Roma! Vite a zero, Roma uno. Palla lunga liscia, attenzione, Abreminare, Abreham, il pallonetto deviato e poi ribattuto da Rasmussen. Roma un passo dal raddoppio. Lorenzo Pellegrini, lato corto, finta e controfinta, Pellegrini ha di fondo il cross morbido in mezzo, Mancini! Da destra con il neo entrato, Bazzoer, il cross in mezzo, Gervic di testa, Rui! L'invio di Rui in avanti verso sinistra dove c'è Abram, colpo di testa invece di Cristante, non c'è più tempo, Fischi e Raskowski vince la Roma, di test zero, Roma uno. Grazie!